Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è mercoledì 21 maggio e vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise. Abusi su un bimbo, un arresto e l'ipotesi di reato dalla quale è scaturita un'ordinanza cautelare in carcere. I carabinieri di Campobasso e Boiano continuano ad indagare su una storia di infanzia violata. In un paese dell'area Matesina si sarebbe verificato un episodio di presunto abuso su un bambino di appena 10 anni. Carabinieri e procura non fanno dichiarazioni, vogliono tenere il massimo riservo su un caso agghiacciante che vede quale protagonista è in negativo un uomo di mezza età finito in carcere per decisione del GIP del Tribunale di Campobasso su richiesta del sostituto procuratore. I carabinieri continuano ad indagare per capire se altri minori siano stati abusati. E poi le Iene non mollano altro blitz in regione Giulio Golia sul caso Cappussi. E ancora cronaca operaio perde la vita nella galleria maledetta. La vittima è originaria di Monte Cilfone, Antonio De Luca, 39 anni, originario di Monte Cilfone, ma da tempo residente a San Salvo e deceduto a causa del crollo di una parete metallica all'interno di una galleria sulla Salerno Reggio Calabria. E poi Carlo non c'è più, ma il suo cuore batte. Donati gli organi del 24enne di Sepino, un atto d'amore che rispecchia la personalità di un giovane che ha perso la vita mentre lavorava onestamente. Gli organi di Carlo, Rucci, daranno nuova vita ad altre persone in pericolo di vita. E poi le amministrative. Campobasso verso le comunali, Battista Punta, vincere al primo turno il candidato del centro-sinistra, sprizza ottimismo in Piazza della Vittoria. Il pacchetto agire, scasserra e le politiche sociali. Il polo civico presenta la serie di misure in favore degli svantaggiati. De Benedittis, fedelissimo di Big Gino, risanato il bilancio. L'assessore uscente traccia i successi coronati nel quinquennio. E ancora Termoli, Marinucci e Marone prosegue il duello a distanza. Per quanto riguarda lo sport, serie D, Agnone, 32 nuovi consiglieri in attesa del Patron. E poi ancora Cianci, voglio dare il meglio per la mia città. Controlliamo le pagine interne. Molise dati di Bartolomeo, la Giunta ritarda la convenzione. La RSA UGL insorge e urge un confronto decisivo con il prefetto. Viva i capitalisti se fanno del bene. Un'attività imprenditoriale a dir poco esplosiva. La Dynamo Camp per andare al di là della malattia. Il Rotary Club con il premio a Vincenzo Maness ha proposto un altro esempio di valore umanitario. Quel voto basso alla licenza. E ancora a caso Cappussi, le Iene tornano in regione. Il giornalista Golia ancora sulle tracce del governatore. Il suo patrimonio sta andando in frantumi. Fra toianni lancia la filiera corta, il coordinatore di Selle significa essere competitivi. L'esponente nazionale a Campobasso per tirare la volata a Battista. Cantini aperte 2014, domenica il vino la fa da padrone in otto aziende. Passiamo ora a primo piano Molise che titola con violenta un bimbo orco. In manette, il 42enne è arrestato dai carabinieri e accusato di abusi sessuali ripetuti. L'inchiesta è scattata dalla segnalazione dei medici del Cardarelli dove la vittima era stata ricoverata per forti dolori. Da ieri è rinchiuso nel carcere di Via Cavour il presunto pedofilo accusato di aver violentato ripetutamente un bambino. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione dei medici del Cardarelli. E ancora ospedale di Vinafro sorbo protesta e si incatena davanti al Santissimo Rosario. 300 persone sfilano contro la chiusura. Da Palazzo Vitale l'Expo di Milano costerà alle casse regionali 500 mila euro. La somma stanziata per partecipare all'evento. E ancora a Campobasso il sociale Priorità Pesca Serra ha presentato il pacchetto Agire. Il candidato del polo civico puntiamo sulla famiglia. E ancora la cronaca cede un'armatura in galleria perde la vita. Un operaio molisano Antonio De Luca lavorava per una ditta di Castelmauro. Lascia la moglie e due figli. L'incidente sulla tre il 39enne viveva a San Salvo. Pozzilli l'ultimo atto d'amore dei genitori donati gli organi di Carlo. Il ragazzo di Sepino non ce l'ha fatta era caduto dal tetto una settimana fa. E poi Campochiaro paga il bus del gruppo Folk con i soldi del comune. Condannato l'ex ragioniere. L'uomo era già finito nei guai perpeculato. E poi Campobasso lo sport. Francesco Cianci tra il rosso-blu e l'azzurro. Un anno magico. Agnonese. Masciotra saluta. Nuovi ingressi nell'organigramma della società. E anche per primo piano molise controlliamo le pagine interne. Expo 2015, mezzo milione per partecipare all'evento. L'aggiunta frattura ha impegnato la somma per lo spazio nel padiglione Italia. Nel pacchetto anche la mostra sulle regioni e l'ufficio di rappresentanza istituzionale. E sull'inchiesta l'Acema insorge togliere gli appalti ai disonesti. Dalla benzina al metano, GPL, incentivi a chi viaggia pulito, via libera le eco misure, contributo di 500 euro alle prime 200 domande. Il governatore, veicoli meno inquinanti e risparmi nell'acquisto del carburante. All'asta i beni di Cappussi, la Iena Golia torna in pressing a Palazzo Vitale. E poi rinviata ancora la convenzione con Molise Dati, l'UGL all'attacco, ricadute occupazionali disastrose. Il sindacato chiede l'intervento del prefetto e invita le altre sigle ad elaborare una strategia comune. Ancora elezioni europee, ultimi fuochi a Bruxelles. La competenza, il PD non molla il fronte dei territori, a Campobasso Maria Saladino. Fanelli riassume la sua Unione Europea, social compact, investimenti fuori dal patto e garanzia giovani estesa ad altre fasce di età. Poi la GAM, chiusa da mesi, ansia fra i lavoratori. I sindacati chiedono un summit a frattura. Oggi intanto il governatore incontra i vertici della triplice. Alla ex cattolica ha scoperto un mix che riapre le arterie, la su Repubblica Salute e la sperimentazione è condotta dall'equipo del professor De Filippo. Passiamo adesso alla gazzetta del Molise, cimitero Molise, Becchino Frattura. Se volete altri croci sulla vostra città, votate il centro-sinistra. ITR, GAM, sanità, zucchero, meritocrazia. L'Oscar del giorno viene dato a Lucio Di Gaetano, il tapiro a Gianfranco Camilleri. Le elezioni, la sindacalista De Cobas, alle regionali con il PD, alle comunali con i 5 Stelle. L'intervista a Scasserra si confessa, rilanceremo campo basso perché siamo senza padroni. Anche per la gazzetta controlliamo le pagine interne, per la produttività, ma quale, che l'impegno suppletivo di lavoro ci sia stato meno e in che misura valutabile e ricompensabile, era e rimane il nodo gordiano della regione Molise. Piovono soldi sul personale regionale con qualifica non dirigenziale. 2.442.830 euro a valere per il 2013. E poi il cimitero Molise del Becchino Frattura. Ancora programmi elettorali scopiazzati e laddove non sono stati scopiazzati si limitano ad elencare i problemi, ma non a dare una soluzione, una campagna elettorale tra le più modeste e a bassa voce. Dire cosa potrebbe essere campo basso, come tentano di dire, è necessario che venga detto oggi cos'è e come sia possibile ricomporla in un insieme gerarchicamente funzionale, sviluppo territoriale, viabilità, mobilità, innovazione tecnologica, accordi di programma, una collaborazione strutturale con l'università, unico polo scientifico da cui sia possibile attingere idee e professionalità. E adesso guardiamo insieme l'home page del quotidiano online, in forma molite. Tra le notizie in primo piano. Durissimo Di Giacomo, domenica un voto contro Frattura. E poi in Euromed, donati gli organi di un giovane molisano rimasto vittima di un incidente. GAM, i sindacati chiedono un incontro urgente, a che punto è il piano industriale? Presunto abuso sessuale su un minore, misura cautelare in carcere per un 42enne. In ultimo ecoincentivi, contributi per i veicoli a GPL e metano, frattura, rimborsi che fanno bene all'ambiente e non solo. Passiamo adesso alla stampa nazionale, leggiamo il quotidiano, la stampa fra Grillo e Berlusconi, l'europeo degli insulti, rivoluzione, evasore, assassino, Renzi, io governo, non litigo. A pochi giorni dal voto si alzano i toni, pari il duello TV fra i leader dei 5 stelle, Vespa, spread a 190. E poi 100 bambini in fuga dalla guerra, operazioni di salvataggio della Marina, imbarcati in Libia, arrivano dalla Siria. Il racconto del comandante, erano in balia del mare, forza 4. Napolitano in Europa, troppi populismi, scegliere libertà e diritti. Passiamo adesso alla Repubblica, Renzi sfida Grillo, vincerò il derby, il governo non rischia, il leader del Movimento 5 Stelle dopo il boom TV, ultimi giorni di Pompei, Berlusconi lo attacca, è un evasore, un assassino. E poi i bimbi profughi della Siria, l'Italia, prendici con te. Tra strappati ai genitori, ecco il loro appello. Non lasciamo che la nostra casa diventi un museo. E poi ancora l'indagine sulle transazioni tra lo IOR e la società TV di Don Matteo, buco da 15 milioni bufere su Bertone. Passiamo al messaggero di Roma, europee, 7 milioni di indecisi. I sondaggisti al sud sono il doppio, i più incerti tra donne e giovani. L'astenzione va verso il 42%. Napolitano, allarme i populismi, rissa tra Berlusconi e Grillo, Renzi, loro litigano, io governo. L'appello, andate a votare per decidere la vostra Europa. Tentata concussione, arrestato presidente del Consiglio della Campania, Alfano era meglio dopo le elezioni. L'indagine ex poca, Tozzo confessa, la cupola voleva 2 milioni di tangenti. Un anno dopo il disastro dei tecnici e la politica da salvare. Ancora dirigenti statali, carriere immobili e licenziabilità, lettera del ministro Maria, si potrà scendere di ruolo fuori chi resterà a lungo senza incarico. E poi il caso Matacena, Scaiola e la lettera con minacce, BR a Biaggi. Passiamo al Corriere della Sera. Votate, rischio, populismi, appello di Napolitano, scontro durissimo, Berlusconi e Grillo. Verso le urne, accuse tra i leader, sempre più pesanti, Renzi, nessuna ricaduta sul governo. Una campagna vergognosa. E poi ancora la moglie di Matacena dalla Francia all'Italia. Il ritorno di Chiara Rizzo, per favore toglietemi le manette. Scaiola sapeva che Biaggi era in pericolo. Ecco le carte segrete nell'archivio documenti su Tangentopoli. Passiamo adesso all'informazione economica. Leggiamo il Sole 24 ore. Casa, ecco i mille comuni dove si paga subito la Tasi. Versamento entro il 16 giugno, nessun rinvio per l'Imu. Che cosa cambia con la proroga parziale a settembre degli acconti? E poi ancora il voto di domenica. Il popolo europeo e la guerra tra gli stati. Tensione su BTP, spread a 191 listini europee incerti in vista delle elezioni. Milano tiene a più 0,3 vendite sui titoli nei paesi periferici. Rendimento dei decennali italiani al 3,26%. L'ILVA è il destino di un paese senza grande industria. Federcaccia è la crisi della siderurgia. Dalla pubblica amministrazione alla giustizia, le richieste dell'Unione Europea all'Italia. Nuove raccomandazioni in arrivo. E poi europee, scontro Berlusconi-Grillo, Renzi loro litigano, io governo. Passiamo adesso all'informazione sportiva. Leggiamo la gazzetta dello sport. È una view maraviglia. Il futuro con la riconferma del tecnico si sblocca e il mercato. Sanchez è l'obiettivo numero uno. C'è l'accordo con il giocatore e si cerca di chiudere a 20 milioni con il Varsa. Che potrebbe chiedere io erente. Evran, Nani e Morata, gli altri desideri, ma attenti a Pogba. E poi la svolta, l'ex arbitro paparesta salva il Bari. Le milanesi interogge il giorno del piano Mazzarri-Milan, un altro rinvio. E poi allenatori, Guidolino e Supervisore, Miai, Lovic e Reia, sì. E poi furi a Ghirardi, potrei lasciare il caso Parma. Il presidente non accetta l'esclusione dall'Europa. Ancora a Brasile 2014, Prandelli riscrive le regole da Mondiale. Twitter ok, ma poco. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto la rassegna stampa di Molise TV e buona giornata. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per martedì 20 maggio. L'alta pressione si rinforza, ma insistono umidi e correnti sud-occidentali. Sole prevalente sul Molise, salvo formazione di qualche addensamento nuvoloso in prossimità dei rilievi collinari e montuosi. Venti deboli variabili con locali rinforzi da sud, mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie, un lieve aumento. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 10, massima 23 gradi. Isernia minima 9, massima 21 gradi. Termoli minima 14, massima 20 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. per la vita di Ihead ed thôi piano sente ma l'am come un c affian peak po